ciao ragazzi in via tutta eccezionale fammi i turisti e roba potete ammirare il nuovo messo dalla tele con l'imperatore cesare come si fa? vedete che con il suo smartphone sta preso come devo fare io comunque siamo a via dei fori imperiali già ci sono collati tutti volete questo volete cosa volete è l'amore è l'amore dateci i sordi comunque gente che corre gente che vuoi fare i selfie gente strana gente stranissima ecco guarda la destra che modo è tanto grosso ecco qua c'è una ragione infatti lo sta proprio indica andiamo sotto a vedere se si chiama davvero così giusto ecco camicia questo si chiama cesare imperatore però imperatore ha detto no indicatore ha detto no imperatore invece lui è cesare divi c'è pure china qui niente raga non mosene perché mi frega un cazzo che stiamo a girare il video accetta fai foto sei proprio da te noi no scusate che aspetta ma che bello andiamo io sono come una bambina vedo queste cose mi illumino guardate che bello che meraviglia no ma perché perché aveva legge da pesi e non fanno un po' rapido sentite qui ma che stai ripendo certo guarda che bella guarda che cosa dici guarda che bello le bolle di sapone mi ha chiamato giulio ma perché mi sta mostrando in giro i 7 re di roma non sei 7 anni non sei 7 anni beh lillo no perché senti un sacco di cazzate non rido come una pazza quindi continuiamo su che cos'è qui no c'è un violino ingrassato qui mi ha inventato un broncello vabbè quindi mi hanno rubato iphone a questo che non lo sai se poi tu devi girare qua verso destra è perpetuo lui però c'è scritto così sì perché sta guardando l'app e sta dire oh giù quello là giù 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 quello là giù ma magari sto ripresando ancora la telefona ma perché quanto siamo cretini vero dai scrivetelo sotto i commenti siamo proprio dei cretini parla per te eccoci qui davanti l'altare della padria abbiamo detto due battute che non ho ripreso meglio così va bene c'è camicia che risponde quando la gente chiama altra gente quindi proprio la gente la segue stanno turisti feticisti guardatelo come è vestito molto militare gli manca armitra alla cazzo io mi sono magnate chips queste sono le genialate stanno ristrutturando ci hanno messo un dipinto davanti un quadro infatti sì bravi bravi sono a preparare di vetro un po' si non andano nel bambone ma da qui come una gente acchittata proprio ormai sono proprio organizzatissimi un po' i vecchietti mi ammazzano eccoci bello eh non potete capire che odorino scusa oh che camicia che si fissa sui cinesi che si fanno i selfie con e non solo sui cinesi si fissa si fissa un po' su su tutte le ragazze carine che ci stanno qui però vabbè ci stanno ah guarda sì perché oh hello horse 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 tutti horse non so di gianco horse horse yeah visto vabbè sono english andiamo a salutare le guardie là sopra che purelle ma che se può entrare io metto il caffettino ma che se può entrare sopra che figo ecco qui ma insomma se può entrare ma se l'è entrata ce l'è entrata ah pensavo a essere scavalcato vogliamo andare a salutare le guardie purelle stanno sui mi portano a portare un caffè c'è raga io sono di Roma sono 34 anni quasi 33 e non sono mai entrata qua dentro cioè quasi in emozione non è mai successa sta cosa non sono mai entrata dentro l'arte della patria mi sono quasi emozionata non ci credo ma questo guarda i culi ma il cazzo che non si prende ma cosa possono muovere sono scappati lì no hanno il cambio no è grande no sono così non è una ragazza oggi scusate noi ah guarda c'è il cambio fanno il cambio che figo ma anche a Londra mi è capita la mia cosa così figo devo rimettere solo invece di stare l'uomo cioè abbiamo beccato pure il cambio della guardia il cambio deve girare è una simonia religiosa ma che ci vuole grazie 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 a tutti. 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 Ciao. Ciao.